L'apparentamento tra Fratelli d'Italia e la coalizione di Ignazio Messina suscita interrogativi anche rispetto alla composizione del prossimo Consiglio Comunale. Questo scenario infatti permette alla nuova coalizione di superare la soglia del 50% utile ad acquisire il premio di maggioranza. Ne discende che con un apparentamento tecnico in caso di vittoria di Ignazio Messina contro Fabio Termine, questa coalizione conquisterebbe 15 seggi su 24. 4 per la lista Messina, Bivona, Brucculeri, Catanzaro, La Barbera. 3 per la lista di Fratelli d'Italia, Bono, Cognata, Venezia. 3 per la lista Onda, Sant'Angelo, Grassadonio, Indelicato. 2 per Insieme per Sciacca, Bentivegna, Venezia. 2 per Sciacca, 20-22, Bellanca, Mandracchia. 1 per Sciacca Terme, Rinasce, Maniscalco. Alla coalizione di Termine invece andrebbero sei consiglieri più il seggio del candidato sindaco eventualmente sconfitto. 2 a Mizzica, Campione e Modica. 2 al Partito Democratico, Gulotta e Certa. 1 alla lista Next Movimento 5 Stelle, Curreri. 1 alla lista Ferdinandea, Ambrogio. Gli ultimi due posti disponibili andrebbero rispettivamente alla lista Mangiacavallo, Blò, e Popolare Autonomisti, Sciacca al Centro, Maglienti. Questi ultimi due posti disponibili resterebbero così in caso di vittoria sia di Messina sia di Termine. In caso di vittoria di Fabio Termine invece, i seggi a disposizione della coalizione di Ignazio Messina rimarrebbero comunque più di quelli dell'eventuale vincitore. Non più 15, ma 13, con il cedimento di un seggio ciascuno da parte della lista Onda, in questo caso rimarrebbe fuori Indelicato, e della lista Fratelli d'Italia, rimarrebbe fuori Luana-Venezia. I due seggi in questione andrebbero rispettivamente a Next, Movimento 5 Stelle, con l'ingresso di Salvino Patti, e alla lista Ferdinandea, in questo caso entrerebbe Leonte.